Ciao a tutti youtuber, oggi voglio parlarvi di un manga creato dallo stesso autore di Dragon Ball Avete capito bene, Akira Toriyama ha creato un altro manga prima di creare Dragon Ball Può sembrare scontato, ma trovo un sacco di persone che non lo sanno Sto parlando di Dottoslamperale, un manga demenziale e pieno di cacca Non è per fare battute, è tutto così Pensate che nella prima serie di Dragon Ball c'è un episodio ambientato al villaggio pinguino Il luogo dove si svolgeva una storia di Dottoslamp Il luogo dove si svolgeva una storia di Dottoslamp Il luogo dove si svolgeva una storia di Dottoslamp Il luogo dove si svolgeva una storie di Dottoslamp Asнова jumpscare twoi turisti nel luogo dove si svolgeva una storia di Dottoslamp Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.